Il dottor Giuseppe Pess è il nuovo primario del reparto di cardiologia del Sire di Carbonia. Torna a lavorare nella asla del Sulcis dopo nove anni, subentra a Rinaldo Aste, andato in pensione. Numeri da record per l'Hub vaccinale del Mariotti ad Alghero. Nella città catalana sono oltre 60.000 i vaccini somministrati sino ad oggi, 47.000 dei quali nel solo Hub del Mariotti. Tre lauree alla memoria sono state assegnate dall'Università di Cagliari. I destinatari sono una ragazza e due ragazzi prematuramente scomparsi. Al via oggi il girotorno speciale 2021 a Carloforte. Le manifestazioni andranno avanti ininterrottamente fino al 31 luglio. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale da Canale 40. Apriamo questa edizione del nostro Tg con la sanità, alle problematiche della sanità, in particolare in questo caso le nuove nomine. Infatti dopo nove anni il dottor Giuseppe Pess torna a lavorare nella ASL di Carbonia nel Sulcis Iglesiente. Il commissario straordinario della TS Sardegna, il dottor Massimo Temussi, gli ha affilato l'incarico di direttore della struttura complessa di cardiologia del presidio ospedaliero unico di aria omogenea di Carbonia. Subentra al dottor Rinaldo Aste, andato in pensione. Vediamo in proposito i dettagli nel servizio. Il dottor Giuseppe Pess è il nuovo direttore della struttura complessa di cardiologia del presidio ospedaliero unico di aria omogenea di Carbonia. È stato nominato dal commissario straordinario della TS Sardegna, Massimo Temussi, con delibera numero 549 del 9 luglio scorso. Giuseppe Pess, 65 anni, originario di Iglesias, già direttore dal 2003 al 2011 del servizio di scompenso cardiaco e riabilitazione cardiovascolare al Santa Barbara di Iglesias, con incarico di alta professionalità sullo scompenso cardiaco, nel mese di marzo 2012 assunse l'incarico, in qualità di vincitore di concorso pubblico, di responsabile della struttura complessa di cardiologia del presidio ospedaliero Binaghi di Cagliari. A seguito del trasferimento a Cagliari lasciò allora anche l'incarico di assessore dei servizi sociali della Giunta Comunale di Iglesias, guidato dal sindaco Luigi Perseu. Giuseppe Pess rileva il posto rimasto vacante a seguito del collocamento in pensione del dottor Rinaldo Aste e prenderà servizio nel nuovo incarico professionale che avrà la durata di 5 anni il prossimo 16 luglio. Con delibera numero 548 del 9 luglio scorso, il commissario straordinario dell'ATS Sardegna Massimo Temussi ha attribuito anche l'incarico di direttore della struttura complessa di cardiologia del presidio ospedaliero unico di area omogena di Cagliari al dottor Carlo Balloi. Fino ad oggi Carlo Balloi, 59 anni, ha diretto l'unità operativa di cardiologia UTC dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. L'esperienza professionale di Carlo Balloi nel capoluogo regionale non è nuova in quanto l'8 febbraio 2019 con decorrenza 28 dicembre 2018 ricevette l'incarico temporaneo ad interim di responsabile della struttura complessa UTC presso lo stabilimento ospedaliero del Santissima Trinità di Cagliari con delibera numero 108. Anche questo incarico avrà la durata di 5 anni a partire da venerdì 16 luglio 2021. Sono 52 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 1.775 test eseguiti, una percentuale in crescita sensibile 2,93%. Non si registrano fortunatamente nuovi decessi, il totale è fermo ancora a 1.492. I ricoveri ospedalieri sono 38 di pazienti in area medica, due in più rispetto al report precedente di sabato, uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.403 le persone che si trovano in stato di isolamento domiciliare. Rimaniamo in tema di sanità, ci spostiamo nel nord Sardegna e precisamente all'Alghero dove sono da record i numeri per l'hub vaccinale del Mariotti. Vediamo i dettagli nel servizio. Sono oltre 60.000 i vaccini anti-Covid-19 somministrati all'Alghero, dei quali 47.000 solo nel lab del Mariotti, dall'inizio dell'attività, ai primi di aprile, una media di 700 vaccini al giorno, una schiera di oltre 100 persone impegnate, tra medici, infermieri e volontari. Sono questi i numeri emersi nel corso di un incontro che si è svolto al quarter di Alghero per fare il punto della situazione nella lotta contro il coronavirus. Erano presenti il sindaco Mario Conoci con il dottor Gioacchino Greco e il dottor Marco Guido, rispettivamente responsabile del centro vaccinali di Alghero e delle vaccinazioni della ASL di Sassali. E più che altro un doveroso ringraziamento alle tante persone che lavorano con estremo impegno e che contribuiscono a fare del centro di Alghero una macchina estremamente efficace. È motivo di grande soddisfazione per tutti gli algheresi. I numeri parlano chiaro. Il nostro centro vaccinale è un gruppo formidabile e generoso al quale vanno i ringraziamenti della città, ha detto il primo cittadino. Profondamente sbagliato a fare valutazioni su alcuni giorni problematici, dovuti a problemi oggettivi già superati. Non dimentichiamo che stiamo gestendo quella che era e resta la più grande emergenza sanitaria globale conosciuta. Il livello delle prestazioni raggiunte in questi mesi è ottimo, ha sottolineato il dottor Greco. E il nostro unico obiettivo resta quello di vaccinare più persone possibile nel minor tempo possibile. Continuiamo a vaccinare le persone con serietà di impegno. Abbiamo affrontato e superato una fase che ci ha creato fisiologici problemi. Ora ci siamo riallineati e continuiamo a produrre risultati. Anche l'operatrice sanitaria e volontaria Monica Pulina ha voluto rimarcare il grande senso di responsabilità di quanti ogni giorno si sacrificano per un progetto di estremo valore socio-sanitario. Il Tribunale Civile di Cagliari ha rigettato integralmente il ricorso presentato da ArtSRLS nel quale veniva richiesto di sospendere l'efficacia degli atti con i quali il Comune Iglesias aveva dichiarato le opere eseguite dalla ditta presso la casa di riposo Margherita di Savoia accettabili ma non collaudabili autoliquidando una somma di 282.515,73 euro. Aveva disposto l'incameramento e l'escussione di due polizze assicurative per 282.515,73 euro. Aveva preso atto dello stato di consistenza dell'opera e delle relative valutazioni economiche. e degli atti di collaudo depositati dal collaudatore il 12 giugno dello scorso anno. Infine esercitato il diritto di recesso per inadempienza nei confronti della ditta precedentemente assegnatari dei lavori di ristrutturazione presso la struttura richiesto il risarcimento d'anni lo stato di consistenza dei lavori l'inventario dei materiali, delle opere provvizionali e degli impianti presi in consegna. Ha dato notizia di tutto ciò in una nota il Comune di Iglesias. Ieri mattina una pattuglia della stazione forestale di Siliqua grazie alla segnalazione di alcuni ciclisti ha individuato nelle campagne di Villa Massarge un congegno che presentava tutte le caratteristiche di un ordigno. L'ordigno era stato installato in uno sterrato sotto un ponte in località Orbai e, ripeto, comune di Villa Massarge con un verosimile scopo esplosivo o incendiario. Gli agenti del corpo forestale hanno immediatamente provveduto a piantonare la zona a scopo di pubblica incolumità e a una prima ispezione dei luoghi contattando contemporaneamente il reparto artificieri dei carabinieri di Cagliari a cui hanno inviato un'immagine dell'allarmante manufatto. I carabinieri, presa visione della foto hanno inviato sul posto i loro specialisti con i quali attualmente collaborano gli investigatori forestali del Nipaf nucleo specializzato in reati ambientali e con una vasta esperienza in delitti incendiari. Gli accertamenti proseguono e delle risultanze sarà diffusa notizia compatibilmente con le attività di indagine in corso. L'Università di Cagliari ha deciso di concedere due lauree alla memoria e un riconoscimento per gli studi compiuti a Claudia Chessa, Cristian Curreli e Claudio De Jara prematuramente scomparsi. Vediamo il servizio. Come Ateneo non abbiamo la presunzione di colmare nulla. Il nostro vuole essere solo un piccolo contributo al percorso di rielaborazione che certamente state facendo. Questo potevamo fare e lo abbiamo fatto. Lo dico a nome di tutti i docenti e di tutto il personale del nostro Ateneo. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo percorso che per noi è una novità. Il vero ringraziamento a vari studenti che hanno stimolato l'Ateneo per accelerare il processo necessario. La nostra è una comunità pronta a essere parte attiva nella vita di tutti. A dirlo è stato il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari Francesco Mola al termine della cerimonia che si è svolta nell'aula magna del Palazzo del Rettorato in via Università 40 in memoria di una studentessa e di due studenti prematuramente scomparsi. Si tratta di Claudia Chessa alla quale è stata attribuita la laurea alla memoria in scienze della comunicazione, di Christian Currelli a cui è stato attribuito un riconoscimento alla memoria degli studi compiuti nel corso di laurea in scienze della formazione primaria dopo la laurea conseguita in scienze dell'educazione e di Claudio Deiana al quale l'Ateneo ha conferito la laurea alla memoria in giurisprudenza. Sono state le mamme della studentessa e dei due studenti a ritirare la pergamela dalle mani del magnifico rettore che dopo la cerimonia ha ricevuto in forma privata le famiglie. È la prima volta che l'Università di Cagliari conferisce la laurea alla memoria ad alcuni studenti deceduti. Ci spostiamo a Oristano dove lo skate park è una realtà. L'area dedicata ai giovani è stata inaugurata alla presenza del sindaco Andrea Luzzo e degli assessori delle politiche giovanili e dei lavori pubblici Maria Bonaria Zed e Francesco Pinna. L'apertura inizialmente sarà garantita dal personale dello spazio giovani in attesa che il Consiglio Comunale approvi il regolamento con il dettaglio delle modalità di utilizzo della struttura. Lo skate park sorge nell'area recintata del centro giovani in uno spazio all'aperto e su una superficie a forma di L di 300 metri quadri. Al momento del taglio del nastro il sindaco Andrea Luzzo ha voluto ringraziare la fondazione di Sardegna per il contributo dato alla realizzazione dell'impianto. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Nuoro subito dopo la mezzanotte un grosso incendio di vegetazione ha interessato la collina di Biscollai al centro del capoluogo Barbaricino. Sono state numerose le chiamate alla sala operativa del 115 di cittadini in apprensione per il fronte delle fiamme che minacciava le abitazioni imponenti è stato il dispiegamento di mezzi e uomini che dalla vicina sede dei vigili del fuoco sono accorsi con quattro squadre con autobotte e mezzi fuori strada al seguito. Sul posto ha coordinato le operazioni un funzionario tecnico il comandante Antonio Giordano ha seguito le fasi di soccorso in stretto raccordo con la prefettura di Nuoro. Dopo cinque ore di lavoro alle prime luci del giorno le fiamme sono state spente non è stato segnalato il coinvolgimento di persone o cose. Nel corso di umilato servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno denunciato a piede libero un imprenditore cinquantotenne residente in città indiziato da reato di smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso in assenza di autorizzazione. I militari durante una verifica presso l'attività commerciale del denunciato hanno accertato il non rispetto quindi il mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di scarico dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni in quanto la ditta è risultata scaricare gli scarti derivanti dal ciclo produttivo nella rete fognaria pubblica. Sabato pomeriggio intorno alle 16.35 a Sant'Antio che i carabinieri della locale stazione su disposizione della centrale operativa della compagnia di Carbonia sono intervenuti in località a semaforo per un sinistro stradale che aveva coinvolto un quad di colore giallonero di proprietà e condotto da un pensionato 59 anni terresco con a bordo un insegnante 43 anni di Torino il conducente del quad per causa in corso di accertamento aveva perso il controllo del mezzo ribaltano che si è ribaltato a causa del sinistro i due sono stati trasportati rispettivamente presso il silai di Carbonia su autoambulanza del volontariato di Calasette presso l'ospedale Brozzo di Cagliari con il soccorso in codice rosso al cittadino tedesco sono stati riscontrati lievi lesioni mentre la donna è stata ricoverata in proniosi riservata per i traumi subiti la regolarità dei documenti di guida circolazione e assicurazione del mezzo è in corso di accertamento il quadriciclo e l'unico casco rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale procedono intanto le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'evento condotte dai carabinieri della stazione di Sant'Antioco ieri pomeriggio a Carbonia sul disposizione della centrale operativa della locale Compagnia allertata da personale dipendente del negozio di articoli sportivi Cisalfa di via della stazione carabinieri della stazione di Sant'Ali sono intervenuti per un furto di merce messo a segno da un giovane i militari hanno individuato subito in via d'Almazia l'autore del furto che rispondeva alla descrizione ricevuta sotto posto di ispezione è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva contenuta all'interno di uno zaino si trattava di un paio di scarpe sportive con relativi calzini in spugna accompagnato in caserma l'uomo è stato identificato in un trentenne algerino celebre senza fissa dimora richiedente protezione internazionale la responsabile del negozio ha riferito di non voler formalizzare una denuncia querela nei confronti del giovane che quindi non avrà un processo a meno di ripensamenti della parte resa la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria ancora cronaca ieri a Muravera nei pressi della rotatoria della sala statale 387 i carabinieri della stazione di Villapuzzu sono intervenuti su segnalazione di un privato cittadino per il controllo di una Fiat Panda condotta da un settantenne pensionato del luogo che è sottoposto ad accertamento etilometrico e il risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,66 grammi per litro alla prima prova e 1,59 per litro alla seconda oltre il triplo quindi del massimo valore consentito l'uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza con sanzione accessoria del ritiro della patente e decortazione di 10 punti dalla stessa e seguito inoltre il sequestro amministrativo del veicolo sarà ora la prefettura di Cagliari a seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda in ordine alla possibilità per l'uomo di recuperare il documento di guida in tempi più o meno lunghi dopo un anno di riposo forzato determinato dalla pandemia da coronavirus a Carloforte ritorna il Giro Tonno con un'edizione speciale vediamo i dettagli nel servizio prendono il via oggi e si concluderanno il 31 luglio a Carloforte le manifestazioni dell'edizione speciale del Giro Tonno l'evento gastronomico internazionale che dal 2003 ogni anno tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno attira gourmet migliaia di turisti nell'isola di San Pietro la pandemia che ha fatto saltare l'edizione 2020 ha cambiato tutto ma non la voglia di Carloforte e dei suoi abitanti di reagire alle difficoltà così in attesa della diciottesima edizione in programma nel 2022 ecco pronto il Giro Tonno speciale 2021 ancora oggi ci troviamo a doverci proteggere e ad adottare misure idonee e a garantire la sicurezza di tutti al contempo ha detto il sindaco di Carloforte Salvatore Pugioni dobbiamo fare tesoro dell'esperienza vissuta ed imparare a guardare con occhi diversi ciò che la pandemia non è riuscita ad intaccare lasciandolo immutato e che forse proprio per questo acquista ancora più valore per questo il Giro Tonno ha aggiunto Aureliana Curcio assessora comunale al turismo del comune di Carloforte ritorna in forma speciale 2021 sotto un'altra veste una veste resiliente e a misura dei tempi resta come sempre la manifestazione che racconta di uomini storie e sapori sulla rotta del tonno che si propone di celebrare il tonno rosso di qualità la cultura e le tradizioni che ruotano intorno ad esso lo scopo dell'edizione 2021 sarà come sempre quello di richiamare l'attenzione e gli sguardi dei turisti su scala internazionale nazionale e regionale sull'isola di San Pietro ma soprattutto sarà quello di far ripartire le attività economiche locali attraverso il tema del tonno rosso prodotto locale di eccellenza mondiale anche quest'anno la manifestazione è organizzata dal comune di Carloforte in collaborazione con il flag Sardegna Sud Occidentale l'evento sarà incentrato principalmente su due importanti iniziative la prima è il contest online premio ricetta girotono speciale 2021 con la migliore ricetta di tonno elaborata dai ristoranti di Carloforte la gara gastronomica a base di piatti di tonno coinvolgerà i ristoratori locali che proporranno le loro ricette in un video che sarà caricato sulla pagina facebook Carloforte Turismo per essere votati con i like degli utenti il video che avrà ottenuto il maggior numero di like verrà premiato simbolicamente come miglior piatto del girotono speciale 2021 i ristoranti in gara per il contest gastronomico sono 17 la seconda è l'iniziativa online in presenza food influencer per caso per coinvolgere turisti e visitatori e fargli raccontare la propria esperienza di viaggio a Carloforte attraverso la degustazione di piatti dove l'ingrediente principale è ovviamente il tonno rosso l'iniziativa che non è un concorso a premi si svolgerà esclusivamente su Instagram il porto turistico di Arbatax ha ospitato il varo del nuovo catamarano vento di Sardegna explorer del velista Andrea Mura erano presenti gli amministratori comunali di Tortoli autorità militare e tanti appansionati e curiosi dopo un saluto un benvenuto ai presenti dello skipper Andrea Mura la benedizione dell'imbarcazione è stata fatta dal parroco Don Corrias c'è stato anche poi il tradizionale battesimo con la rottura di una bottiglia di vino che è stata fatta dalla madrina dell'evento Daniela moglie di Andrea Mura il catamarano sarà di appoggio alla sua ormai celebre open 50 a vento di Sardegna con la quale Andrea Mura ha vinto tante regate a livello internazionale e mondiale straordinaria impresa dell'ASD Bocciofila Carbonia Comunale Carbonia neocampione sarda a questa squadra di prima categoria dopo aver perso la gara di andata della finalissima sabato 3 luglio sul campo della Bocciofila Gallura Olbia con largo punteggio 7 a 1 che sembrava definitivo sul campo della squadra gallurese appunto sabato 10 luglio invece a parte invertita a Carbonia gli atleti guidati dal presidente Gianluca Sayu e dal direttore Bruno Mancano clamorosamente travolto la squadra gallurese con un perentorio 8 a 0 che va al suo loro il titolo di campione regionali e li ha qualificati per le finali nazionali che avranno inizio nel prossimo mese d'ottobre in Sicilia la squadra dell'ASD Bocciofila Carbonia era composta dal capitano Carlo De Sì ed Enrico Ruh Mariano Balia Davide Pucceddu e Luciano Rocca Salva gli incontri sono stati arbitrati da Antonino Pod e Carlo Madeldu direttore di gara Michele Alastra era l'ultima notizia di questa edizione di oggi del nostro telegiornale non vi resta che ringraziarvi per l'attenzione prestata e darvi appuntamento ovviamente alle prossime edizioni augurandovi anche una buona giornata grazie a tutti